sul posto sul posto 1 2 3 3 tu tu mi devi darmi due termini 1 2 3 4 vai me devo fa vai bravo ma che fa marione devi farlo ma tu devi farlo girare marione tu sei l'uomo i cascheri io sono bravi che sta facendo? che fa? ah le sigarette quelle lì, a mano molto bravo, ma che fa Mario? ma non deve farsi girare lui ma possiamo metterli a parlare con le stelle? mandi qualche e-mail a parlare con le stelle? mandi un e-mail ciao guarda che sguardo di maialesco che c'ha Marione allora ragazzi qua siamo davanti a uno spettacolo che vedete una volta nella vostra vita e ringraziate che ti vedono su una volta ma purtroppo qua ogni settimana si vede Marione che balla davvero ricercati, ricercati questo qua si chiama il Giro 360, si chiama il 360 di Dunkle e poi come vedete questa mostra qua si chiama la molla, è bellissima ragazzi davvero un ballo difficile e pericoloso, potrebbero rompersi le gambe ma non lo saranno certo però lei si diverte, è presa eh, è presa e non ha ancora fatto la mossa del granchio Marione è presa, meno male che non ha la sorpresa zanzang un po' così, devi fare così con le gambe un po' così che sei stancato in questo tempo quando tu mi amavasi con gran fulgor un po' così stancato in questo tempo e saluta un po' così 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 in una trasmissione qualche canale a me noi facciamo molto peggio di quei canali lì dove sono i vecchietti che ballano molto lì un po' così un po' così più un giro che altro adesso eh una serattina ballo con Marione e la signorina Patrizia ah è vero molto bravi ah il granchio forse, ah ecco il granchio doppio granchio carpiato oh qua ho guadagnato di più definitivo doppio granchio eh il granchio carpiato un granchio carpiato un granchio carpiato un granchio carpiato si si è come un sudamericano Marione cioè il sangue il ritmo ah 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 se prendi culo culo che fa? Marione si giri faccia l'inculamento fai tu l'inculamento vendicati Fanno oh vabbè ho proprio presa con le braccia ma che fa Marione ah 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 non alla violenza no alla violenza ahahah era incaprettata Si ha legato le brazze Mamma mia Si spoglia però Se è tolta la canotta E' finita finita Che fai? Cresa Ma che fai? Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma come ha fatto lei? In modo carino Che prendevi il braccio così E stavi un po' appoggiato Te la metti dietro così Non l'avevo capito Ho capito che non l'avevi capito Cresa Madonna E' quella E' il tuffo negli anni 80 Spaventoso Aspetta Lui gli metteva Gli metteva le cuffiette Le cuffiette con la canzone Ma che? Sombriachi fragili Per un mezzo bicchiere di niente Di gazzosa Cresa Cresa Viva Napoli Viva Viva Fantasia Viva 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 A a far ridere. Bei tempi, tu non eri neanche nato, io eri 83 anni, ho piccolino, nemmeno eri stato pensato, io avevo già 15 anni, ma che fa, ma sempre l'inculata, vieni qua, vai vai verso il sinistro, col culo, col culo, solo col culo, solo col culo, era un film francese, col culo, mi pare, qua c'è l'amore, era abominevole, tra dieci anni loro si vedranno questo pezzo e diranno guarda che ricordi quando ballavamo, che bello, come nasce un amore, che fa, vedi, vedi, la situazione si scalda, vai Arione, giro, 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 spesso Marione, ripeto, appegolati, appegolati, uno, due, tre, aiuto, 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 stiamo rasentando la follia, più totale, tu ti chiedi, ma è che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto? Sander, questo qua, dov'è adesso? Sarà ricco sfondato dopo sta canzone, no? Ai tempi si guadagnavano. Tu si fa la ballerina, una ballerina fa. In modo, ti assicuro, mi tocca questa roba, mi ricorda veramente l'adolescenza, ma più di tanta roba, eh? Sì. Cioè, questa roba qua era entrata nella testa di tutti gli adolescenti di quell'epoca. Volevano tutti ballare. È impressionante come siano cambiati i tempi. Cioè, una roba così. Gesù in. Gesù in. Gesù in. Gesù in. Gesù in.